Le zucchine ripiene sono buonissime, con pane e mortadella sono mondiali! Lezza il pane e mettilo in ammollo con il latte, taglia le zucchine a metà, svuotale e cuoci l'interno con sale e olio, infine schiacciale bene con una forchetta. Se serve, togli dal pane l'eccesso di latte, aggiungi uno spicchio d'aglio, un uovo, due cucchiai di pecorino, il prezzemolo tritato, la nostra amica mortadella e le zucchine cotte. Mescola bene e con questo bel ripieno riempi le zucchine. Spolvera poi infine di pan grattato, aggiungi un filo d'olio, inforna per mezz'ora a 180 gradi ventilato e voilà!